Allo stadio comunale di Palma Campania va in scena il lunch match della terza giornata di ritorno della Serie A Fimile Team. L'Inter vuole dimenticare in fretta il capo interno contro la Juve e tornare a macinare punti come a inizio stagione. Si gioca il lunch match che apre la terza giornata di ritorno. Palla dentro per Cristian Dottir, colpo di testa debole per impensierire Zettigna la quale blocca la sfera senza problemi. Sicuramente metterà una palla dentro per una compagna con Rubustellini che si avvicina. Cerca un assist per Cristian Dottir, Pandini con il sinistro, poi Angela Cioia e Zettigna si oppone. Rivediamo la punizione, la palla poi dopo una carambola dentro l'area piccola arriva sul mancino di Pandini che a botta sicura calcia. Zettigna da terra si oppone alla grande. Tutto pronto per la punizione, 4 in barriera per l'Inter. È pronto Tati a battere questo calcio di punizione con il destro che non sortisce però nessun pericolo per Durante precisare il punto di battuta. con Zettigna intanto che va a dare le ultime disposizioni. Tutto pronto per la punizione. Già battuta la punizione dentro per il colpo di testa di Van der Graagd che ci arriva come suo solito senza però spaventare più di tanto Zettigna. Carciunì. Sonstevold dentro, cercare c'è Winga che si gira benissimo. E arriva il vantaggio dell'Inter. Contra vita Cia Winga. Pomigliano 0, Inter 1. Al minuto numero 53 la sblocca. Cia Winga e trova l'ottavo gol in questo campionato. Messo in apprensione tutta la difesa del Pomigliano. È qui all'improvviso cross di Sonstevold. Cia Winga riceve palla. Si gira in maniera rapida e con un guizzo mancino. Trova il gol dello 0 a 1. Pandini contro Rizza. Entra in aria. Pandini aspetta l'aiuto di una compagna. Pandini converge. Scarica per Merlo che non trova la porta. La trova ora con questo destro. Interessante ma centrale. Rivediamo Merlo. Prende la mira. Carica il destro. Lo esplode. Giulia Dragoni. Classe 2006. E già nel 2019 veniva definita la 2006 migliore d'Italia. Altro cross interessante per Cia Winga. Che di testa. Mette il punto esclamativo su questa partita. Pomigliano 0. Inter 2. La doppietta di Cia Winga. Al minuto numero 76. Sull'altro cross al bacio di Sonstevold. In questa azione si inserisce perfettamente sul cross di Sonstevold. E gira alle spalle di Zettigna. All'angolino. Due di recupero alla fine dei cinque concessi. Palla lunga per Sangaré. Che va a affrontare a campo aperto Van der Graag. Scarica per Amorim Dias. Entra in aria. La palla sul sinistro. Amorim Dias. Allarga per Analu Martinez. Analu Martinez. Arriva il gol dell'1-2. Al minuto numero 93. La riapre. Analu Martinez. Amorim Dias apre dentro l'aria per Analu Martinez. Che elude l'intervento di Sonstevold con questa grande giocata. E poi trova la rete che trafigge Durante sul palo lontano. Chiaramente tra un momento e l'altro potrebbe chiudere qui il match. L'arbitro con il suo triplice fischio. E infatti non c'è più tempo. Finisce qua. Tra Pomigliano e Inter. L'Inter interrompe il digiuno di vittorie. E vince. 2-1 contro il Pomigliano. Grazie alla doppietta di Chawinga.